Oggi siamo in piazza come studenti, come in tutto il mondo, per apporci a questo modello di sviluppo che sfrutta territori, sfrutta persone, un modello che sta distruggendo la nostra terra, che è una che dobbiamo difendere. Questo modello che non va solo a distruggere il clima, ma per esempio rientra anche nel modello delle grandi opere inutili, le opere non volute dai cittadini come il MUOS, la TAV, le Trivelle, che distruggono territori, ammalano le persone, spendono milioni e milioni di euro di fondi pubblici che dovrebbero essere usati per il benessere delle persone, per la sicurezza dei territori e anche per esempio per gli studenti. Invece sono usati per perdere questo modello di sfruttamento e di devastazione dei territori, che non è voluto dalle persone, ma è voluto solo dai grandi potenti che ci fanno solamente profitto. Non ci sono mai pesci senza microplastica dentro, e io mi chiedo che facciamo fra 50 anni, non possiamo più distinguere fra plastica o pesce. Partire dai giovani la riscossa, la politica sembra non aver prestato sufficiente attenzione. Sì, siamo qua per far arrivare questo messaggio che è già troppo tardi per i politici di agire, si deve fare qualcosa adesso, perché la plastica è ormai entrata nel nostro circolo di nutrizione. I giovani hanno ragione, perché non c'è tempo da perdere, se ne è perso già troppo, non possono loro aspettare che diventeranno grandi per cambiare le politiche energetiche del paese. Il governo italiano deve farlo da domani mattina, si fa in maniera molto semplice. Noi ogni anno diamo alle rinnovabili 14 miliardi di euro di incentivi, e ci sono sempre grandi polemiche. E' bene ricordare ancora oggi che alle fossili e al petrolio diamo 16 miliardi di euro ogni anno di sussidi. Ecco, se questi sussidi alle fonti inquinanti venissero cancellati, da domani mattina le rinnovabili potrebbero ulteriormente prendere piede nel sistema energetico nazionale e questo sarebbe un beneficio per la lotta ai cambiamenti climatici. Ridurremmo lo smog dei territori dove ovviamente si bruciano i combustibili fossili per il trasporto, piuttosto che per l'energia elettrica, piuttosto che per la produzione industriale e sarebbe anche un contributo importante per ridurre la bolletta molto pesante e energetica che paga il nostro paese. A me sorprende la reazione dei ragazzi, io ero convinto che il tema fosse poco sentito, e invece scopro che proprio nei ragazzi, e poi dobbiamo avere fiducia, invece il problema è davvero sentito, dobbiamo ascoltare la loro voce ed essere conseguenziali, dobbiamo dare una risposta immediata. Io credo che i giovani abbiano ragione, c'è una grande questione ambientale che serve per la tutela del pianeta, per questa ragione bisogna immediatamente adoperarsi per fare tutte le scelte politiche possibili che vadano verso una direzione, diminuire le emissioni, diminuire il numero di automobili circolanti, diminuire il numero di pressione sul nostro ambiente perché sempre di più stiamo distruggendo la nostra terra e quindi stiamo distruggendo il nostro futuro.